Richard Burton, Elisabeth Taylor, in un film di Vincent Minnelli. Io non riesco a scacciarti dai miei pensieri. Castelli di sabbia, sabato prossimo alle 20 e 30. Ogni anno, nel mondo, sparisce un'area di foresta tropicale grande come una nazione. Se ci aiuti, possiamo evitarlo. A night with Lady Dane, Millie Holiday. Dopo la go-kart, dopo la stupid art, voglio quello che sono. Omega Art. Diamant Lee è la pietra di sintesi più simile al diamante finora mai ottenuta. Una splendida collezione di gioielli montati in oro massiccio, dal fascino unico. Oggi, arricchita dai nuovi e esclusivi smeraldi di coltura minerale, smerali. Una sintesi di perfezione dal verde profondo e purissimo. Vieni a provarli in Viale Premuda 5 a Milano. È inutile cercarli altrove, in tutta Italia li trovi solo lì. Diamant Lee, a Milano, in Viale Premuda 5. Telefono 5455383. Jugoslavia, 1941. La furia nazista entra nelle case, demolendo i sogni di libertà e pace di un popolo. Ma non tutti si arresero. Fuoco! Troche decine di uomini in grado di fermare un esercito intero. Quei bastardi sanno come si combatte e sanno quando scappare. Ogni giorno, una città da difendere o da riconquistare. Riuniremo le nostre forze in tre settimane e con le nuove armi attaccheremo Krupani. Rod Taylor, i giorni dell'ina, mercoledì alle 20.30. E' un recado! C'era una volta una ragazza che sognava di diventare la moglie di Orrè. Una storia come tante altre? Oh no! E' la favola di Cenerentola. Per un magico Natale, la scarpetta di vetro. Lunedì prossimo, alle 17. Che fine ha fatto, 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 che fine ha fatto. Quando riesco a liberarmi dagli impegni, mi piace scappare via con lei, la mia nuova Chiesta Injection XR2. Mi piace il suo stile, il suo scatto, la potente progressione dei suoi 110 cavalli, l'eccellente tenuta di strada e la sicurezza del suo assetto. Sì, è proprio vero, se la guidi, ti innamoro. Fiesta Injection XR2, un crescendo entusiasmante. È un fantastico eroe, sempre in azione dove il pericolo è pronto a colpire. Con un coraggioso compagno, combatte per la giustizia una spietata banda di stravaganti criminali. La sua maschera è mistero, il suo simbolo, mania, il suo nome, leggenda. L'unico, l'originale, Batman. Lunedì prossimo alle 20.30. By Davidoff Cosmetics for Men, il Davidoff, il premio internazionale per l'atleta più rappresentativo dei mondiali 90. Sei tu la giuria, sei tu che con il tuo voto porterai alla vittoria il tuo calciatore ideale. E con lui potrai vincere anche tu biglietti per i mondiali o favolosi videoregistratori digitali selco. Chiedi in profumeria i prodotti Davidoff e la scheda voto del premio internazionale per il mondiale 90. Buona fortuna. Mangia e bevi. Osservate ed imparate. Le matricole, i succhi di frutta. Li mangiano. Tesorino d'oro, ma cosa mangi? Ma cosa bevi? Al di coca. Prego ragazzi, mangia e bevi l'ho scelto io. La bottiglietta è tra le più grandi e contiene 140 ml di bontà. Bevi e mangia. Oh, che magra, prof. Mangia e bevi. Mangia e bevi, il succo e polpo di frutta G che trovi in esclusiva al bar, nei migliori bar. E da oggi mangia e bevi e anche in Latina. Grana Padano, primo, secondo e terzo. La pena di morte è stata già abolita in mezzo mondo. Ma in più di cento paesi, ancora oggi, la legge decapita, impicca, fucila, asfissia, avvelena, fulmina, lapida, ogni anno, migliaia di uomini, donne e bambini. C'è un solo modo per non essere complici di questa strage. Fermarla. Un ricordo lontano è arrivato per cambiare la vita di Craig. E mi ha detto tutto di te. Tu sei mio padre. Ritorno dal passato. Giovedì prossimo alle 20 e 30. Ci sono momenti nella vita in cui la precisione è tutto. E ogni istante è prezioso. Per questo al tuo polso c'è Volkswagen. Preciso. Affidabile. Forte come te. Non permettere a nessun altro di stare al tuo braccio. Volkswagen Quartz. La forza del carattere. Ames, ma perché non provi i deflettori Parimor? Parimor. Risolve. È ora che ci rincontrassi. Sai, avevo proprio voglia di vederti. Come va? Bene, purtroppo il lavoro mi ha costretto in Italia. Beh, quel che conta è che sei qui. Buono, se non fossi a New York penserei ad uno spumante italiano. E quanto pensi di rimanere a Manhattan? Almeno una settimana. È proprio buono, voglio sapere cos'è. Avevo ragione, è inconfondibile. È asti tosti. Tosti, l'asti che si beve a Manhattan. Shirley MacLaine. Una continua ricerca spirituale per conoscere la vera essenza della vita. Ma se quello che ho provato è uguale alla morte, allora non c'è nulla di cui avere paura. Tra il buio e la luce. Ultima puntata domani alle 20.30. Ogni giorno incontri l'handicap psichico. Non dimenticarlo, non nasconderlo. Anfas, non solo rivendica diritti. Organizza servizi. Ultima puntata domani alle 20.30. Ho, la luce. La luce. La luce. O 2 Toilettes Cacharelle, per l'Homme. Sei sicura ? Sì. Ok, stop ! Lulù ? Avete visto Lulù ? Tu la conosci. Se n'è appena andata. Ti dico che se n'è andata. Lulù ? Sì, c'è io. Lulù, parfum di Cacharelle. Assistenza Infantile. Un servizio che oggi non è più considerato un lusso, bensì una necessità. Ma chi opera in questo settore ? Un'indagine a tappeto della CVS porta alla luce esempi leciti e illeciti. Storie di mostruosa follia o di grande umanità. Collegamento internazionale. Domani alle 21.30. De onde Carlo ?